La Madonna ci ha scelti nel 1981 e ha iniziato a darci messaggi. All'inizio non credevamo che questo potesse accaderci, perché proprio a me non sono la migliore, non solo la più fedele, non andavo moltissimo in chiesa, ma come bambini normali. E la Madonna ha scelto noi. È arrivata sulla colina, che allora era una colina normale. Oggi si chiama Colina delle Apparizioni. La Madonna è venuta qui con il nome Regina della Pace. Quando l'abbiamo chiesto, chi sei? Ha risposto, io sono la madre di Dio. Il terzo giorno delle Apparizioni, in un modo speciale, quando stavamo tornando dopo l'Apparizione sulla colina, la Madonna mi è apparsa una seconda volta e ha detto, pace, pace, pace. La pace deve regnare tra l'uomo e Dio e tra gli uomini. La pace nel cuore degli uomini. La Madonna ha poi detto di chiamarsi Regina della Pace. I primi giorni delle Apparizioni, mi ricordo, non dormivamo nemmeno molto. Abbiamo pregato rosario dopo rosario. Non abbiamo capito molto. Non abbiamo nemmeno pensato molto, perché tutto era molto, molto più grande di noi. Cosa stavamo facendo? Abbiamo pregato. E molte volte, mi ricordo, non sapevamo dove appariva la Madonna. Notte, buio, non vedi niente, stanchi. Ma abbiamo sentito il bisogno dopo la Chiesa, dopo il programma che la Madonna voleva in Chiesa. Abbiamo passato il tempo, per esempio, a pulire la Chiesa. E quando abbiamo finito con le pulizie, intorno a mezzanotte, non abbiamo sentito il bisogno di andare a dormire, anche se eravamo stanchi. Ma abbiamo sentito il bisogno di andare sulla collina per ringraziare la Madonna per tutto quello che ci ha dato. Quando è arrivata la Madonna, eravamo sotto il comunismo. Ed era difficile vivere qui. Non potevi essere né un insegnante, né un professore, né un dottore, né ottenere un posto di lavoro importante se dicevi di essere cattolico, che eri un credente, che eri un credente praticante. Questo vi sto dicendo solo per raccontarvi come vivevamo in quella epoca. E a noi ci portavano negli ospedali. Ci dicevano che avevamo vivizioni, che eravamo malati di mente. Però poco a poco, la Madonna ha cominciato a darci speranza. Ci ha detto, pensate a Dio e alle cose di Dio, e non pensate all'altro. Preghiate. E così abbiamo iniziato a pregare. Ci siamo sentiti scelti. La presenza della Madonna all'inizio è stata per noi paura. Poi dopo, poco a poco, era gioia. Perché stare con la Madonna significa sentire il paradiso qui sulla terra. La sua apparizione. La sua presenza. Quando arriva, per noi è sempre come avere il paradiso in mezzo a noi. E solo quando pensiamo che il paradiso si apre qui, per tutti noi che vogliamo accettare i suoi messaggi. Ecco perché vi invito tutti a quelle cose che la Madonna ci diceva dall'inizio. E questo significa pace. Il messaggio più importante è il messaggio di Dio. La pace. Dio. La pace significa incontro con Dio. La conversione. La Madonna è venuta la prima volta sulla collina delle apparizioni con il Gesù bambino. Noi diciamo, l'immagine più importante, più bella della Madonna è la Madonna con il bambino Gesù tra le braccia. E ci ha chiamati. Eravamo ai piedi della collina e lei ci ha chiamato con le mani a venire. Nessuno osava avvicinarsi. Il giorno dopo, una grande necessità nei nostri cuori era quella di andare, di avvicinarci di più alla Madonna. E sicuramente la paura della sua presenza si è trasformata in gioia. Qualcosa di immenso, in qualche modo lontano, si fece vicino. Il Dio che era in cielo è diventato Dio tra noi. Il Dio che cammina con noi, che ci incoraggia alla conversione, che ci dice, ritornate a Dio, perché senza Dio non avete futuro né vita eterna. Ecco perché la Madonna incoraggia e ci chiede di essere portatori gioiosi del suo messaggio. E cosa significa il messaggio della Madonna? Ciò significa gioia. La gioia di essere cristiani. La gioia di essere chiamati alla conversione. La gioia di essere ogni giorno sempre più aperti alla volontà di Dio. L'ultimo 25 del mese, dopo l'apparizione, ho dovuto piangere dopo. Così tante volte avete visto a Mirjana in queste condizioni. Noi tutti cerchiamo di trattenerci. Per non dire che vedere Madonna non significa piangere. No, significa gioia. Significa sentire il cielo. E quando la Madonna viene, è gioiosa. Anche se è seria, è bella, ci incoraggia alla santità. Viene su una nuvola, ha un vestito grigio, ha un velo bianco, ha una corona di stelle. Viene su una nuvola. Ma è tutto così avaro. Ecco perché molte volte non ne parlo nemmeno. Perché non possiamo descrivere la nostra esperienza interiore con queste nostre parole terrene. A volte mi piacerebbe fermare tutte quelle persone che vogliono venire a apparizione e dire a loro di essere in digiuno e preghiera per tre giorni. E poi vieni. Tre giorni di preghiera e digiuno. Poi vedremo se davvero sperimenterai Dio e la Madonna. Vengono per dire, Madonna vieni a guariscimi. Io sono qui, devi guarirmi. E la Madonna dice, ritorna a Dio e alla preghiera. Penso che l'uomo che inizia a pregare ogni giorno di più inizierà a capire molte cose. La Madonna ci dà speranza con la sua presenza. Ci ha detto mille e mille volte, non vi preoccupate. Testimoniate, pregate, torniate a Dio e alla preghiera. Ci ha chiamato e ci ha detto che attraverso la preghiera e il Duggi Uno si possono reprimere anche le guerre. Dio ci ha dato i dieci comandamenti e ha detto, se vogliamo andare sul cammino giusto di ritornare e vivere i dieci comandamenti di Dio e starete bene qui sulla terra. Su questo cammino terreno, cosa è che ci chiede effettivamente la Madonna? Di abbandonare il peccato e di pentirci e di iniziare a vivere sulla via della santità. E alla santità la Madonna ci ha chiamato a tutti. Non importa chi siamo, da dove veniamo o che titolo di studio abbiamo. La Madonna dice, la santità è una chiamata per tutti noi, uno stimolo per questa umanità per andare ogni giorno a una vita nuova per noi attraverso di noi. La Madonna si preoccupa solo di una cosa, della nostra anima e dice, siamo combattuti tra molte cose materiali, cose terrene e pensiamo poco alla nostra anima. Ecco perché ci incoraggia e ci chiama sempre e ci dice, tornate a Dio, tornate alla preghiera, tornate al digiuno. Ha detto, attraverso la preghiera e il digiuno si possono reprimere anche le guerre. Questo significa, tornate a tutto ciò che Dio ci incoraggia a fare. Perché se digiuniamo, anche questa pandemia che ci spaventa tornerà all'inferno. Perché non viene da Dio. è anche quella pandemia di disordine dentro il nostro cuore, la pandemia di disordine della nostra famiglia. La Madonna ci dice, prendete l'esempio della Sacra Famiglia e imparate dalla Sacra Famiglia. Ecco, la Madonna ci incoraggia, ritornate alla fede, ritornate a Dio, tornate alla preghiera, tornate a digiuno, ritornate ai comandamenti di Dio. Molti giovani dicono, ah, non mi interessa. A me di Dio non mi importa niente. È uno di migliaia e migliaia di dei che ci siamo dati. Il Dio dello sport, il Dio della dieta, è il Dio del progresso aziendale e non so quante altre cose. Nella mia famiglia i bambini sono nati quando ho già avuto apparizioni. Quindi questo è normale per loro. Un figlio mi dice, mamma, per favore, raccomandami, prega per me, ho un esame, o non so, qualcos'altro. È un modo così dolce. E allo stesso tempo sanno che quando hanno bisogno di me, io sono qui. Con i bambini, quando erano più piccoli, abbiamo pregato il rosario come famiglia. e poi uno gioca, se ne va e torna per pregare la sua decina e dice, io ho finito la mia decina e me ne vado. Anche questo è un impulso a non pregare come fanatici, ma che anche questo sia un'espressione d'amore per Dio. Non so, quando siamo a maggio mettere un fiorellino davanti alla Madonna, i bambini molte volte mi dicevano, mamma, tu metti i fiori come se fossi una bambina. Però allo stesso tempo vedo che anche loro quando vanno da qualche posto, da un prato, trovano dei fiori e portano quei fiori e li mettono davanti alla Madonna. È una piccola e intima espressione d'amore per la Madonna che è nata in loro, nei loro cuori. Forse proprio per il fatto che anche io portavo quei fiori quando loro erano piccoli. Questo significa fiorellino come fiore, un fiorellino come sacrificio, un fiorellino come nostra devozione alla Madonna. E questa è una decisione che deve prendere ognuno di noi. Qui siamo di passaggio. Tutti quelli che nascono muoiono, anche noi così. Però la Madonna vuole che tutti lasciamo un segno, un segno della nostra presenza. In un mondo speciale, ci penso mille volte, le persone che vengono a Medjugorje, che vogliono toccarci, parlare con noi. Noi gli diciamo sempre che noi non siamo importanti, che Dio è importante. Convertitevi. Ascoltate i messaggi della Madonna. Metteteli in pratica. La Madonna ci ha insegnato che attraverso di lei andiamo tutti a Gesù. Quindi questo significa innamoratevi della Madonna. E la Madonna è così innamorata di Dio che anche voi vi innamorerete di Dio e che lo seguirete. E poi inizierà un nuovo mondo. Il mondo che la Madonna sogna, che noi sogniamo, il mondo della pace. La Madonna ci ha detto nel suo ultimo messaggio che il dimonio vuole la guerra e inquietudine nei nostri cuori. E la Madonna sta qui e sta combattendo per la nostra pace, pace nel nostro cuore, nella nostra famiglia e la pace nel mondo. Pertanto tutti coloro che sono stati chiamati, tutti coloro che sono di buona volontà, sono chiamati ad essere persone di pace. E senza pace non abbiamo futuro. Per questo voglio dirvi con tutto il mio cuore. Ritornate a Dio. Senza Dio non avete futuro, come dice la Madonna. Tornate alla preghiera. Tornate ai sacramenti. Voi che siete battezzati, ritornate alla confessione. Questo significa lasciamo il peccato e cominciamo a vivere la conversione per poter vivere, come la Madonna dice, la via della santità, per il nostro bene personale, per il bene della nostra famiglia, della nostra comunità, per il bene della mia parrocchia e del mondo intero. Ecco perché la Madonna sempre chiede e ci incoraggia a tutti di mettere Dio al primo posto in un modo speciale nell'Eucaristia. Perché come dice lei, ripetutamente, l'Onipotente mi ha permesso di essere qui con voi per guidarvi. Ecco, per il gratitudine alla Madonna e in questo quarantesimo anno, come popolo eletto, anche noi siamo stati scelti. non importa se sei a Međugorje, in America, in Australia, in Cina, in Africa, in America Latina o in Groenlandia, sei stato chiamato alla conversione come dice la Madonna. Pentitevi e iniziate a credere in un futuro migliore. E la Madonna, quando dice questo, è venuta dal futuro, dal cielo e lei sa di cosa ha bisogno il nostro cuore. Per questo preghiamo insieme affinché il cuore immacolato di Maria vinca dentro di noi e attraverso di noi perché lei dice siate le mie mani stese. Per questo la Madonna dice in un messaggio io desidero dare il mio amore a voi così voi la potete dare agli altri. Ecco, anch'io con questa mia testimonianza voglio dirvi che l'amore della Madonna e l'amore di Dio incomincia a fluire in tutto il mondo. non solo attraverso di me attraverso di voi se non che diventiamo davvero i portatori di luce in questo mondo buio che non ha speranza. La Madonna è venuta con la speranza e ci incoraggia attraverso i suoi messaggi. Ritornate a Dio perché Dio è la nostra speranza. Dio è la nostra luce. Dio è il nostro cammino. La nostra verità è la nostra vita. E che Dio e la Madonna vi benedicono a tutti. a tutti. Grazie a tutti.